Sicuramente Bologna è la città accogliente per eccellenza, è una città eclettica, è una città che ti accoglie, ti coccola e in cui adesso credo di voler restare per sempre. Il numero di corsi di studio che ci sono a Bologna fa capire quanto è ampia l'offerta e il fermento culturale che c'è a Bologna e ti stimola verso nuove realtà perché i tuoi colleghi vengono da qualsiasi area della conoscenza ed è molto molto bello e interessante. Quando mi confronto con i colleghi internazionali, quando vieni dall'Università di Bologna c'è assolutamente un riconoscimento, una consapevolezza di una città che offre a livello culturale, a livello degli studi, a livello di vita, il meglio. Durante le nostre ricerche in laboratorio abbiamo brevettato un dispositivo che ci permette di mimare in laboratorio le condizioni fisiologiche e patologiche del corpo umano e questo ritrovato ha dato poi avvio a uno spin-off dell'Università di Bologna in Simili. L'Ufficio Nuova Imprenditorialità dell'Università di Bologna è stato uno strumento indispensabile per il raggiungimento dello spin-off in Simili e per tutto quello che significherà in Simili sul territorio.